Eccoci qua, bella a tutti dal vostro Gaboman, oggi siamo tornati con un nuovo video spacchettamento su PES, praticamente siamo agli sgoccioli, ormai PES 2015 è quasi finito, tra qualche giorno esce PES 2016, ma io non mi arrendo, vado a contratto, me voglio fare un altro bello spacchettamento con Castolo. Quindi, agente top, naturalmente, vabbè, vi proporrò anche qualche altro spacchettamento con gli agenti free, perché ce n'ho ancora veramente tanti da smaltire, eccolo qua, il 15,5% c'è dalla possibilità di trovare 3 palloni neri su tutta la griglia, quindi, oh, provamoci perché non si può mai sapere, può essere che riuscimo finalmente a beccare il capitano. Eccoci qua, Castolo, posizione attaccante, pagamo subito con GP, confermamo, prima pescata del giorno, dai, vediamo chi è questo, io me lo auguro che sia un pallone nero, o comunque me auguro di riuscire oggi a beccarne almeno uno. Eccolo qua, forse ce se ferma, eh, forse ce se ferma l'immortacci sua, de' pochissimo, mannaggia la miseria, vabbè, prima pescata del giorno, è un pallone oro, questo c'ha una faccia conosciuta, chi è? Teofilo Gutierrez, io non ce posso credere, questo è stato uno dei miei primi attaccanti, è ritornato, incredibile, oh, ci ho giocato veramente tanto, non lo so chi de' voi se lo ricorda, ma i primissimi video dei pes che ho fatto, li ho fatti con Teofilo Gutierrez là davanti. E' un ottimo giocatore, me ce l'ho sempre trovato molto bene, 79 de VGG con 71, 64, 61, rispettivamente tecnica, velocità, fisico, è colombiano, gioca nel River Plate, oh, io ci ho giocato e me ce l'ho divertito, mo però naturalmente non è che me ce metto a rigiocare, perché davanti c'ho tutti i fenomeni. Confermamolo subito, aggiungiamo le membri MyClub, facciamoci la seconda pescata del giorno, allora, io direi da andare sempre su Castolo, perché comunque centrocampo, difesa e portiere sto veramente messo bene, non che in attacco sia messo male, eh, vi dica la verità, però, oh, ci voglio riprovare. Dai, ancora una volta, pagamo ancora con GP, confermamo, eccolo qua, seconda pescata del giorno, vediamo chi ci esce fuori, eh, io ce provo, allora, schiaccio in questo momento, voglio un pallone nero, assolutamente, te, te, no, niente, niente pallone nero, bene, perfetto, chi è questo? La faccia è da deficiente, ma chi è? È Berghaus, mai sentito, vabbè, olandese della Z, 22 anni, 1,79, comunque non è male, è un regista creativo, può fare praticamente tutti i ruoli dell'attacco, quasi tutti quelli del centrocampo, tranne il mediano e il centrocampista centrale, 70, 60, 52, secondo me non è proprio malissimo, eh, P.S. in pallone oro, poteva capitare molto peggio, bene, così, quindi, confermiamo pure lui, aggiungendolo ai membri MyClub, adesso, adesso, visto che ho solo 22.000 GP, io mi farei una bottarella di free, come stavo a dire, perché tanto bisogna smaltirli per forza, e lo facciamo combinandone tre, vediamo un po', allora, che vi posso dire? Ehm, facciamolo tutti da tre? No, anzi, ho cambiato idea, andiamo verso la fine che ci stanno i ruoli, allora, vediamo un po', non ci stanno i ruoli, eccolo qua, allora, CLD, mi piace, poi, punta esterno d'attacco, vediamo che ci esce fuori, guardate che probabilità di pallone nero, 0,4, vabbè, ingaggiamo il giocatore, vediamo la terza pescata del giorno, naturalmente questa è un agente free, quindi dei palloni neri ce ne stanno solo uno, vediamo un po', gira, guarda che si ferma sul nero, eh, guarda che si ferma sul nero, guarda che si ferma sull'oro, guarda che, vaffanculo, non si è fermato su nessuno dei due, bene, chi è? Vediamo un po', mamma mia che cazzo te faccia, è Fabbrini, questo se non sbaglio giocava, boh, nell'Empoli forse da qualche parte è così, oh, comunque è una bella velocità de base, eh, 66 non è male, eh, solo 24 anni, 1,82, ma, buono dai, per essere un pallone bronzo, dai, non è proprio uno stronzo, ok, confermiamo pure quest'altro, aggiungiamo le membri my club, mo, ritorniamo naturalmente sugli agenti quelli classici, ancora su castolo, ancora posizione attaccante, ancora se paga con GP, ancora se conferma, questa è la quarta pescata del giorno, io sto ancora in attesa di un pallone nero che non è più arrivato, vediamo un po', eh, girano le palle, girano le palle, e girano le palle, niente, pallone oro, vaffanculo, è andata male, che vedevo dire, vediamo un po' chi è questo, la faccia è sempre però diversa, oh, chi è questo? Vietto, adesso c'è il piselletto, però porca puttana, oh, 73 de velocità, non è male, nonostante sia solo un 75 de VGG, buono, dai, ventenne, 1,73 d'altezza, gioca nel Villareal, pure la tecnica, dai, ci possiamo accontentare un bel 61 e tutti a casa, fisico 54, confermamolo, perché io voglio provare l'ultima pescata del giorno, aggiungiamo le membri MyClub, eccola qua, eh, mi sono rimasti solo 10.000 GP, quindi, vabbè, 12.000, ne posso fare solo un'altra, bene, io direi di falla e vediamo che succede, pagamo con GP, confermiamo ancora una volta, eccola qua, questa è l'ultima pescata del giorno, spero di riuscire a beccare sto cavolo di pallone nero, ma a sto punto non lo so, vediamo un attimo, ecco che rigirano le palle, rigirano le palle, se ferma sull'oro, niente, oggi è andata una merda, bene, così, vediamo chi è questo, che faccia c'ha questo, mamma mia, è sempre la stessa, l'hanno cambiato un pochetto, è De Arrapascheta, ma che cazzo del giocatore è, mamma, oh, tutti veloci oggi comunque, pure questo 71 de velocità non fa proprio schifo, eh, è buono, dai, Uruguayano Defensor Sporting, 20 anni, 1,72 con 63 de tecnica e 43 de fisico, quindi, vabbè, dai, non c'è andata proprio malissimo, ci poteva dire, secondo me, molto peggio, perché quando non capitano manco i giocatori veloci, è ancora peggio, quindi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete il mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, detto questo, non mi resta che davo appuntamento alla prossima, io vi saluto, bella a tutti, regà, ciao!